Un gruppo di No Border ha protestato nella mattinata di oggi di fronte al carcere di Imperia per l'arresto di un 28enne francese da parte dei carabinieri di Ventimiglia, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I manifestanti dicono che dal suo arresto non abbiamo potuto avere alcun contatto con lui. Dalla chiusura delle frontiere, diverse centinaia di rifugiati sono bloccati nella città di confine alle porte della Francia, dopo essere fuggiti dalla guerra, i massacri, la dittatura e lo sfruttamento, queste persone sperano di vivere in Europa una vita migliore o almeno degna. Non sappiamo cosa sia successo esattamente venerdì sera, ma siamo certi che Felix, fedela alla sua etica, ha agito per solidarietà. Secondo quanto affermato dai No Border, la mobilitazione per sostenere il detenuto dovrebbe proseguire fino alla sua liberazione. In tarda mattinata è stato convalidato l'arresto delle francese Jeanne Isidore Felix Croft, accusato appunto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il giovane verrà scarcerato al più presto. Il magistrato gli ha riconosciuto le attenuanti poiché incensurato e quindi non avrebbe fatto da passor per lucro, ma come da lui stesso dichiarato perché è un sostenitore dei No Border. La notizia della sua scarcerazione da parte del suo legale è stata accolta con entusiasmo dai suoi amici, fuori ad attenderlo dal carcere.